Allora, buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film Uomini e Dei, le meraviglie del Museo Egizio, di Michele Mallì, che abbiamo il piacere di accogliere qui, insieme a Evelina Cristillen, che è presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie, e insieme anche allo sceneggiatore Matteo Boneta. Benvenuti a tutti voi. Dunque, il film è selezionato alla 41esima edizione del Festival, nella sezione fuori concorso, ed è una prima mondiale. È un film prodotto da 3D Produzioni, Nexo Digital e Sky, in collaborazione con il Museo Egizio, in partenariato con Radio Capital e Sky Art e My Movies. Sono presenti in sala anche della 3D Produzioni, se non vado errata, di Di Gnocchi e Gloria Boggi, di Sky Roberto Pisoni, e poi abbiamo il compositore della colonna sonora, Remo Anzovino, abbiamo la curatrice del montaggio, Stefania Caratroni, dell'ufficio stampa del Museo Egizio, Sabina Prestipino, e responsabile degli eventi del Museo, Rossana Lanza, spero di non aver dimenticato nessuno. Benvenuti a tutti. Allora, Michele Malli, questo è un film in cui volevo sapere un po' quali sono state le ricchezze e le specificità con cui vi siete dovuti confrontare. So che lei ha fatto anche un precedente lavoro importantissimo sull'Ermitage di San Pietroburgo, però volevo un po' capire quali sono state proprio le specificità di questo lavoro qua. Poi passiamo anche alla sceneggiatura che avete fatto insieme. Beh, diciamo, lavorare con il Museo Egizio è stata un'esperienza bellissima, fare questo film è stata una bellissima esperienza, complesso, nel senso che c'erano vari filoni narrativi per cui andava raccontato il Museo, andava raccontato la sua storia, andava raccontato un mondo, andava raccontato le meraviglie che ci sono nel Museo. Grazie alla scrittura di Matteo siamo riusciti, penso, a farlo degnamente, spero. Ma come ho già detto, rispetto agli altri musei del mondo non credo aver mai trovato una situazione così collaborativa come all'interno del Museo Egizio. Dalla direzione, alla presidenza, all'ultimo degli elettricisti, all'ufficio registrar, a chiunque fosse dentro il museo ci ha aiutato in una maniera straordinaria. Voglio ringraziare tutti. Grazie mille. Lo dico sinceramente perché di musei ne ho visti tanti e siete stati veramente gentili. Alla fin fine i curatori, tutti naturalmente anche, che hanno partecipato al film, alla fine abbiamo passato dei mesi in tempi di Covid, tra l'altro. Abbiamo passato dei mesi insieme e tutti questi soggetti sono diventati quasi degli amici, nel senso che non si veniva a lavorare, si veniva con dei grandissimi professionisti a cercare di tirar fuori qualcosa di potente da questo museo che è straordinario, che io ho conosciuto, vista la mia età, ho conosciuto ben prima della ristrutturazione, quando da giovane la mia fidanzata, che poi diventò mia moglie, restaurava un gattino, veramente un gattino all'inizio degli anni Ottanta e per cui avevo conosciuto quel bellissimo, polveroso museo di cui ci si innamorava dal punto di vista estetico, ma ovviamente che poi abbiamo visto crescere e diventare ancora più bello, ancora più importante negli anni. Ecco, queste quattro. Grazie. Ma come si fa a scrivere una sceneggiatura con così tanti elementi e in più con un così grande attore che deve interpretare dei testi? Sono un sacco di cose da mettere insieme. Sì, in effetti. In realtà abbiamo fatto delle scelte abbastanza precise fin dall'inizio con Michele. Mi sentite? Sì, ecco. Fin dall'inizio abbiamo fatto delle scelte abbastanza precise sia dal punto di vista, come dire, del ruolo da assegnare a Jeremy, che è quello di una sorta appunto di... non è un presentatore corrente, diciamo, normale, ma è una sorta di cantastorie che, come dire, porta avanti lungo tutto il film un filone che è quello sia legato al personaggio principale del museo egizio che è Ha, ovvero il titolare di una tomba ritrovata in Egitto, che è la tomba, diciamo, fuori dall'Egitto con il corredo più completo, almeno così. E Ha con sua moglie Merit sono, come dire, abitano al museo egizio e sono il cuore del museo e intorno a loro abbiamo costruito un racconto intorno al viaggio di Ha attraverso gli inferi e speriamo per lui anche con un esito buono alla fine. E quindi, diciamo, Jeremy porta avanti questo racconto intrecciandolo ai racconti legati, diciamo, alla cosmogonia e alla mitologia egizia, che ho scoperto facendo questo lavoro essere una mitologia ricca e bellissima anche proprio di racconti, non iratica come me l'ero immaginata, ma estremamente viva e bella da raccontare. Quindi questo è un filo, diciamo, che porta avanti un filo, penso, caldo. Poi le altre scelte obbligate sono legate molto alla storia del museo, i reperti del museo. Quindi c'è un secondo, diciamo, filo narrativo che forse è più, diciamo, condotto da Christian Greco, che è quello nel quale intervengono tutti i curatori, o quasi il 90% dei curatori, penso, del museo, più i direttori dei musei europei più importanti, più la direttrice del Museo del Cairo. Raccontano invece, diciamo, la storia del museo ed è anche una sorta di piccolo sunto dell'egittologia, nel senso che, appunto, è una storia che parte da metà Settecento con i primi esploratori torinesi e racconta proprio la costruzione della collezione che si intreccia, peraltro, con gli stessi protagonisti, gli stessi personaggi, a quelle dei grandi musei europei, quindi il Louvre, Berlino e il British. E quindi questa è stata anche poi l'occasione di andare a girare con Michele in questi musei. E quindi, diciamo che poi il film apre anche, come dire, delle finestre su questa rete di egittologia, che è una rete di collaborazioni molto bella, no? Molto internazionale. E quindi, insomma, senza voler essere enciclopedici, però poi alla fine penso che il film di anche uno sguardo che va anche oltre la collezione torinese un po' al meglio di quello che la civiltà egizia ha raccontato. E poi c'è il viaggio in Egitto che abbiamo fatto, quindi questo racconto sull'egittologia, sulla formazione della collezione, passa anche attraverso l'Egitto, insomma. Basta, saluto. Insomma, mi pare di poco. Evelina, io volevo avere un'idea di questa impresa culturale che funziona benissimo, con tantissime attività, ristrutturazione, digitalizzazione, ricerca e quant'altro. Per il 2024 cosa si prevede? Ci abbiamo le meni dei polsi che tremano già adesso, no? Intanto grazie, grazie mille, grazie Enzo, grazie Steve, grazie a tutti voi per averci invitati, ma soprattutto grazie a loro, cioè di in sala e quindi, come dire, per noi oggi essere qui con questo film, docu-film, non so come bisogna chiamarlo, per me è in film, in un giorno speciale in cui tra l'altro Cristian Greco, che si scusa di non essere qui, ma esattamente a quest'ora il Teatro Alfieri lo stanno nominando Torinese dell'Anno, quindi più domani il mio compleanno, quindi cioè la summa teologica di tutto quello di buono che poteva succedere accade oggi. No, il museo effettivamente, lo dico al mio amico Enzo, con cui siamo sempre in gara tra il Museo Egizio e il Museo del Cinema, in realtà siamo amicissimi e ci piace tantissimo avere due musei così importanti che portino persone a Torino, che portino turisti, che portano appassionati, che portino giovani, perché poi la cosa più importante è proprio quella dei giovani, che non pensino al museo come un qualche cosa, la famosa Turri Seburnia, dove vanno solo pochi eletti, lontano, polveroso, quello che diceva Michele, dei suoi ricordi un po' sapeva di quello. Ecco, oggi no, è completamente diverso, effettivamente il museo si è aperto enormemente come, io credo, uno dei cuori pulsanti di una comunità cittadina, in cui tutti si sentano a casa e quello che faremo, e che tra l'altro abbiamo iniziato già a fare, perché i cantieri sono partiti il 18 di ottobre, quindi il 2024 è l'anno del bicentenario dell'Egizio, quindi pochi forse sanno che il Museo Egizio di Torino è il più antico del mondo, più antico ancora di quello del Cairo, e in qualche modo, insomma, pensare che venne fondato prima dell'Unità d'Italia, quando eravamo regno di Sardegna, da un Carlo Felice, che normalmente io sarei professore di storia, ormai un po' un'alfabeta di ritorno, ma insomma, Carlo Felice non è che proprio fosse un sovrano illuminato, era quello che tirava botte ai carbonari, a destra e sinistra, quando non li fucilava, insomma, non era proprio un principe della cultura, però lì era scoppiata, diciamo, una mania europea di egittomania, che non era ancora egittologia, che però è diventata, o ha cominciato a diventare egittologia, con Napoleone, con la descrizione dell'Egipto, quando è andato in Egitto si è portato 124 studiosi dietro, che hanno catalogato, disegnato, raccontato l'Egitto, e uno di questi era Bernardino Drovetti, che andò là e rimase come consolo di Alessandria, poi tornò con questa collezione straordinaria, che vendette, ecco qui Carlo Felice, per una cifra folle per allora, l'equivalente di 60 milioni di oggi, 400 mila lire piemontesi. Tutto questo per dire che arriviamo a oggi, il museo si è evoluto, credo che si sia, Michele è un po' trasformato dalla polverosità, insomma, con tutto che la collezione ovviamente è sempre quella, però il modo di esporla, di raccontarla, di digitalizzarla, di farla vivere anche attraverso delle mostre itineranti che noi ormai facciamo nei cinque continenti, in questo momento siamo a Pechino, ma siamo appena tornati dal Canada, dal Brasile, quindi la grande ricchezza, vorrei citare, non vorrei essere blasfema, ma davvero quanto è importante la parabola dei talenti. Se uno ha una ricchezza come quella e la tiene nascosta in un magazzino, di fatto si priva della missione che dovrebbe avere appunto un museo, e Christian l'ha ripetuto ancora stamattina, un museo è vivo, quindi è bello far conoscere, tra l'altro noi non siamo un museo statale, siamo una fondazione di diritto privato con dei soci pubblici, a che ringraziamo tantissimo, ci mancherebbe, però possiamo permetterci di dare la nostra collezione, di farla vivere, di farla comunicare, di metterla a disposizione di chiunque voglia, non c'è diritto sulle fotografie che sono tutte digitalizzate, non c'è sugli oggetti, si può fotografare, si può prendere tutto, e crediamo che questo forse, il film oggi è come dire una testimonianza massima, però sia proprio il modo migliore di far sì che il patrimonio sia veramente il patrimonio culturale di tutti, e non soltanto di chi può, di chi vuole o di chi non può venire raggiunto per tante ragioni, quindi andiamo anche noi fuori dal museo, non solo con le mostre, negli ospedali, dai bambini, dai migranti, insomma si cerca di essere appunto una comunità che vive. Questi grandi progetti del 2024, e concludo, sono dei progetti strutturali, di restituzione, non faremo delle feste Saint-Lumière, quelle no, però è un progetto da un po' più di 20 milioni, in cui si restituirà alla città, a una piazza, una parte di museo che sarà gratuita, una sala immersiva che ricostruisce quello che noi non abbiamo all'Egizio, abbiamo le piante, abbiamo gli oggetti, c'è un giardino ricostruito appunto filologicamente su quanto desunto dai papiri, però non c'è il paesaggio, quindi ci sarà una sala immersiva che stiamo realizzando con l'Istituto Italiano di Tecnologie, per la parte appunto di hardware e di software, perché noi siamo bravini ma non fino a quel punto, e quindi il Tempio di Ellesia che fa parte del percorso di visita verrà rimesso invece a disposizione della piazza, perché fu quello che venne regalato dal governo egiziano all'Italia quando furono spostati i templi di Abu Simbel. Italia, Stati Uniti, Olanda e Spagna, quattro templi, i loro sono esposti pubblicamente, il nostro per allora venne dato all'Egizio, lo restituiremo nel percorso diciamo gratuito della piazza, del giardino e della sala immersiva, insomma stiamo cercando di immaginare l'Egizio 4.0 dopo aver fatto nel 2015 il 2.0, però davvero grazie per questo lavoro straordinario che ho avuto la fortuna già di vedere, parlo del film ovviamente, e devo dire che quando ho visto Jeremy Irons, che sarà banale dirlo, ma è sempre stato uno dei miei miti, da Mission a Fonbulov, al Baldano, li potrei citare, quando l'ho visto nelle nostre sale ho detto, eh? Sogno, no, lo sapevo che sarebbe venuto. Tra l'altro lui in quel periodo girava avanti e indietro da Gressonei perché aveva le riprese dei House of Gucci ed è stato anche un modo per conoscerlo, persona straordinaria, grande attore non lo devo dire io, perché sarebbe arrogante perché lo è per se stesso, perciò grazie, grazie infinite, spero che il film ci piaccia, tra l'altro dovranno dirlo loro, poi Sky, Nexo Digital, 3D eccetera, andrà nelle sale poi a gennaio, ma soprattutto andrà all'estero, per cui poterlo far vedere in Francia, citato il Louvre, il Berlino, il British, tra l'altro sono membri del nostro comitato scientifico, e quindi è bello far circolare la cultura, ecco, senza barriere, che la cultura sia un ponte sempre, con tutti. Grazie. Ci sono domande? Buongiorno, Davide Gravina, Cinedums. Io volevo chiedere, tra le varie cose che trappelano nel film, emerge anche una certa, come dire, concretezza delle opere che vengono viste come, come dire, con dei primi piani, con una certa cura del dettaglio, volevo sapere se effettivamente è stata attenzionata con particolare attenzione appunto questo tipo di, verso le opere, questa sua concretezza, diciamo. Credo che il regista tocca a lui. Beh, sì, ci abbiamo provato in tutti i modi, sì. Devo dire che c'era all'Egizio, qua a Torino, c'era un piccolo problema, che chiunque... Dillo pure. Lo dico, che è il flickering delle luci, nel senso che se qualcuno con il telefono prova a fare delle riprese al museo, quando è stato fatto l'impianto elettrico, hanno tutte frequenze diverse, per cui le musiche, per cui le luci flickerano. Non so come si può dire... Sì, sì, ma è quello. Sorfallano. Sorfallano, ecco. Di conseguenza, quella è forse stata una difficoltà maggiore, abbiamo dovuto praticamente illuminare da capo tutto il museo, sala per sala, in poco tempo, per cui avevamo la difficoltà di illuminare una sala, girare, intanto si preparava l'altra, perché ovviamente non si poteva illuminare tutto il museo da capo. Questo per poter andare il più vicino possibile, effettivamente usare delle lenti molto, molto importanti, devo dire la verità, grazie alla produzione che ci ha permesso di usarle. spero che queste opere abbiano ritrovato la loro... A me sembrano bellissime, più belle quasi che al naturale. Posso forse aggiungere che un bellissimo lavoro che ha fatto Michele è sulle opere molto piccole, che sono fotografate in maniera molto viva, appunto non solo le opere monumentali che hanno richiesto tutti questi accorgimenti di cui lui parlava, ma anche opere piccole che sono state riprese con dei set e che raccontano molto, spero, che raccontino molto nel film. Avete dovuto lavorare in dei momenti di chiusura, in dei momenti... Come vi siete organizzati il set concretamente? Perché non deve essere stato banale questo, no? No, ma sì, come hanno detto loro, sì, c'è stato un momento abbastanza lungo, anche di chiusure parziali dovute al Covid. Quindi per l'Egitto credo che sia stato complicatissimo, anzi lo so perché lì di ogni tanto mi chiamava, abbiamo il problema col permesso di qui, con la cosa di là. Tengo a dire che noi per fortuna in una situazione davvero delicata con l'Egitto, perché comunque la nostra sala più importante del museo è dedicata, credo molti lo sanno, a Giulio Regeni. Non abbiamo mai fatto ovviamente delle dichiarazioni roboanti, ma la nostra vicinanza e l'amicizia mia personale è di Cristian, con Paola e Claudio e Irene. La famiglia di Giulio è totale, però, come dicevo prima, la questione dei ponti è altrettanto importante. Se non lo si fa attraverso la cultura non vedo quali siano i canali possibili, certo non la politica, difficilmente, e anche la diplomazia, ahimè. E quindi sì, credo che per loro in realtà le difficoltà più grosse siano state là, al di là della natura, delle tempeste di sabbia, del vento, però in Egitto è molto complicato, perché per esempio già i droni non possono essere utilizzati. Questo lo sappiamo anche noi, non io che non sono archeologa, ma i nostri archeologi non puoi usare quel mezzo lì. Quindi sono molto attenti ai permessi e a che cosa viene fatto, a che cosa viene girato, è anche giusto, insomma. Però da noi credo che loro sono stati molto gentili e sono molto orgogliosa di quello che hanno detto riguardo a tutti i miei colleghi e alla disponibilità che c'è stata. Per noi è stato un regalo, quindi non abbiamo avuto diciamo problemi a convivere, anche perché, ripeto, molto è stato fatto quando c'erano comunque ancora delle limitazioni. Sì, c'è un'altra domanda. Sì, buongiorno, sono Gaia Simeonatti. Volevo sapere, siccome è un prodotto molto curato e ha, oltre all'aspetto visivo, che è molto bello, ha un forte aspetto anche di da scalico. Volevo sapere se avete pensato di, una volta uscito, tenerlo come prodotto da mostrare dentro al museo, perché aiuta anche i visitatori. Ma, sinceramente, su questo non abbiamo ancora fatto una riflessione che deve essere condivisa ovviamente con i produttori, perché noi quello che abbiamo fatto è dare una collaborazione totale e super felice di essere a disposizione per tutto quello che riguarda un po' di consulenza scientifica, ovviamente, visto che è... Anche più di un po', diciamo. Vabbè, è così. Se si potesse trovare, perché chiaramente è un film, chi l'ha visto dura parecchio, cioè non è... Dura un'ora e quaranta, un'ora e venti, eh sì. Però, insomma, è un film, non è una roba da venti minuti. Penso di sì. Dovremmo trovare comunque un modus operandi, anche credo contrattuale. Io non voglio mettere i piedi in testa a nessuno, in modo che questo rimanga comunque anche un po' per noi. Perché comunque abbiamo visto che, insomma, tutta la parte digitale che abbiamo fatto durante il Covid, soprattutto le passeggiate del direttore, eccetera, noi avevamo già digitalizzato tutta la collezione prima del Covid, per fortuna. Per cui quelle passeggiate le abbiamo registrate sette ore di fila senza sceneggiatura, se le scritte tutte Christian a memoria. Troveremo un modo, effettivamente, ma non credo che adesso, come adesso, si possa mettere online per tutta una serie di ragioni ovvie, ma poi vedremo, insomma, sì. Ma ce lo dice lei dove lo vediamo? In Italia e all'estero? Eh no, ce lo devono dire loro. No, al cinema, ma non so, lo deve dire Didi, io non lo so. A gennaio? Sì, no, ma certo. Sarà, credo, il circuito di 3D Next Digital? Io ho visto l'altro giorno meraviglioso, tra l'altro quello di Veltroni, che addirittura avete fatto un giorno in più, perché c'era, cioè quello dall'America Russo, insomma, però loro hanno un circuito pazzesco, quello dei tre giorni famosi, eccetera, eccetera, e poi so che, appunto, andrà anche in Francia. Poi, stai, perché la città internazionale sarà distribuita nel cinema del mondo. Ah, quindi... Quindi, gli attacoli non farà il festival e verrà acquistato dalla... Grazie, Didi, scusami. Allora, ci sarà una distribuzione Cinema Italia e Cinema Mondo, dopodiché in Italia sarà visibile su Sky e con una finestra, credo, subito dopo, subito dopo il cinema e dopodiché verrà distribuito anche sulle piattaforme e sui canali internazionali. Quindi dovrebbe avere... Io non credo che troverà nessuna difficoltà a venire distribuito poi in tutto il mondo. Ecco. No, non siamo molto contenti. Sì, prima parlavo con un amico qua in sala e diceva... E questo sarà un po' di campanilismo, non lo so, però diceva è una grande operazione di comunicazione anche per la nostra città. Adesso, al di là dell'Egizio, ma insomma Torino ne viene fuori, credo, veramente bene. Ecco, Grazie. Grazie.